Perchè ti fermi? Che succede? Succede che c'è altro da fare. E te non sei prevista. Questa corsa è finita. Ma che mi lasci qua? Io ho paura. Mi sa pure, chiamano taxi per il cellulare, arriva subito. Lorenzo, non fare lo sconto. Ma che mi lasci qua davvero? La macchina fotografica! Io promesso che mantengo. E comunque se tenevo morto. La macchina fotografica!